Siamo qui in compagnia con Loriano Macchiavelli, notissimo scrittore bolognese. Siamo qui in occasione di questa ripresentazione del suo libro Sgumbei. Partiamo subito da questo titolo, questo titolo che ha dentro di sé tutta la bolognesità. Sgumbei vuol dire chiasso, disordine, persona chiassoza. E però la cosa strana è che in questo libro Bologna non viene mai nominata esplicitamente. E' un omaggio che io ho voluto fare a questa città che mi ha accolto tantissimi anni fa e che mi ha accudito e che ha fatto di me quello che sono in realtà. E però volevo che chi l'avesse letto si rendesse conto del nome di questa città attraverso le storie che racconto della città. Mi pare che sia riuscito bene, tanto più che addirittura l'abbiamo tradotto in dialetto bolognese, mai il romanzo fu più adatto a questa traduzione. Certo. E proprio a me piace citare e leggere qualche riga che lei fa dire a un suo personaggio, Antonio Sarti, celebre, Antonio Sarti, commissario. Gli fa dire che Bologna, non dicendolo però, è una città indecifrabile anche per me, che lo ha girato in lungo e in largo. Il mistero si respira nell'aria, lo si trova dietro ogni colonne e ogni angolo. Questa misteriosità di Bologna, lei come la percepisce? Proprio come la vive? La vive anche oggi, quotidianamente? Naturalmente questo discorso, questo brano che lei ha letto riguarda la città nella sua parte antica, nella parte all'interno delle mura. In realtà è così. Se noi immaginiamo questa città senza le illuminazioni che ci sono oggi, medioevo o secoli successivi, ci rendiamo conto di quanto sia misteriosa. I portici sono un luogo dove si può nascondere di tutto e allora si respira veramente. Io ho sempre avuto questa sensazione di città misteriosa che si nasconde. Infatti la parte più bella di Bologna, della città, è dietro le mura. Si scoprono dei giardini meravigliosi, si scoprono dei tromplei, si scoprono una città diversa che molti bolognesi non conoscono. Anche in questo libro è una città che viene nominata immediatamente e dalla prima pagina viene inseguita fino all'ultima. Secondo lei è un po' così anche oggi Bologna? Non è una delle città più conosciute, più famose, più frequentate d'Italia, però qual è il suo appeal che rimane? Se noi pensiamo alla gente che lo frequenta, d'accordo, ma la gente che la conosce questa città è pochissima. Gli stessi bolognesi non sanno per esempio dell'esistenza di un'altra città che sta sotto questa, che ha uno sviluppo molto maggiore dei portici che conoscono tutti. Quindi questa città, come tutte le città, va investigata, va studiata e va inseguita e mai la raggiungeremo perché mentre noi la inseguiamo lei continua a mostrarci o a nasconderci altri tesori che non abbiamo ancora scoperto.